bentornate e bentornati sul canale in questo video esercizio semplifichiamo un'espressione con i radicali radice quadrata di radice quadrata di 5 fratto radice cubica di 5 se vuoi provare a farlo per conto tuo metti in pausa tra pochissimo vediamo lo svolgimento allora procediamo per maggior chiarezza ho messo in evidenza i valori che sono sottintesi cioè quando non c'è esponente è sottinteso che l'esponente sia 1 e quando non è indicato l'indice della radice è sottinteso che sia 2 cioè che si tratti di una radice quadrata ora per semplificare dobbiamo effettuare questa divisione sotto radice cioè dividere la radice quadrata di 5 per la radice cubica di 5 il problema è che moltiplicazione e divisioni tra radicali si possono fare in modo semplice e veloce solo quando c'è lo stesso indice allora proviamo a ridurre i due radicali allo stesso indice il minimo comune multiplo tra 2 e 3 e 6 e quindi con un'opportuna moltiplicazione possiamo trasformare entrambi i radicali in indice 6 si moltiplica l'indice della radice quadrata per 3 e l'indice della radice cubica per 2 ottenendo 6 e 6 però per le proprietà dei radicali se moltiplichiamo l'indice per un certo numero dobbiamo moltiplicare per lo stesso numero anche tutti gli esponenti dei termini sotto radice quindi 5 alla prima diventa 5 elevato alla 1 per 3 cioè 5 alla terza in questo modo otteniamo la radice quadrata di radice sesta di 5 alla terza diviso la radice sesta di 5 alla seconda ora che abbiamo ridotto i due radicali allo stesso indice possiamo scrivere 5 alla terza e 5 alla seconda sotto un'unica radice sempre con indice 6 a questo punto semplifichiamo 5 alla seconda con 5 alla terza e rimane 5 alla prima cioè semplicemente 5 e si ottiene quindi che l'espressione iniziale uguale alla radice quadrata della radice sesta di 5 ma una radice di radice equivalente a un'unica radice che ha per indice il prodotto degli indici quindi si ottiene la radice dodicesima di 5 grazie per avermi seguito ti lascio il link alla playlist sui radicali e se il video ti è piaciuto metti like iscriviti al canale ciao